Lavoro, arrivo a casa, mettevo a letto i bambini, leggevo la storia, finita alle dieci e mezza iniziava un'altra giornata per me che mi portava a volte anche fino alle due o tre di notte. Eccoci, benvenuti nella... ormai ho perso il conto di quale puntata siamo di questa nuova stagione, ma siamo nella seconda stagione di Umano, un podcast che parla di persone che hanno realizzato il lavoro dei propri sogni, oppure accanto ad un lavoro apparentemente normale hanno costruito qualcosa di straordinario. Mi fanno segno dalla regia che questa puntata è la terza di questa nuova stagione e ospite di questa terza puntata è Gabriele Arrigoni. Ciao Gabriele, come stai? Tutto bene, tutto bene. Quale lamentarsi. Ho chiamato, ti ho chiamato in questo podcast perché tu tra le x cose che fai e hai fatto, in realtà abbiamo una passione in comune che è quella del mondo dei droni e quindi tutto il mio discorso era, oltre che a rubarti qualche segreto, era quella di chiederti come sei iniziato in questo mondo. Ho iniziato il tutto. Io so che fai un lavoro diverso, ma neanche poi... Esatto, legato all'elettronica, comunque legato all'elettronica, ma poi qualcosina mi è servito, sia la scuola che il lavoro, per la costruzione di questi aggeggi volanti. E niente, il tutto inizia nel lontano 2017 circa, con un mio collega di Milano, in cui vado costantemente a fare manutenzione ogni sei mesi, dove lui acquista un drone, un DJI classico, il Mavic 2 Zoom, fa le foto, già un bel drone. E vedo, guardo, ho questo drone che fa foto, fa video, dal lato, bello. E in quel periodo il drone c'era, ce n'erano, sì, ma non era ancora così di largo consumo come adesso, passami il termine. E ho detto, ah, bello, dai, dobbiamo fare un video. In quel tempo, io, a quel periodo lì, facevo Downhill. Ok. E allora ho detto, buono. Quindi le due cose si sposano perfettamente. Il drone Downhill, già vedendo i video su YouTube, sui social, ho detto, dai, proviamoci. Abbiamo organizzato il tutto. Abbiamo organizzato Sudame in montagna, dove è il paesello da cui vengo, in Valtaleggio. E abbiamo fatto la giornata dove, con GoPro, con droni proprio così molto spensierati, abbiamo fatto una giornata dove ci siamo ripresi. E quello è stato il nostro primo approccio, il mio primo approccio al mondo dei droni. Fatto sta che mi è piaciuto così tanto che dopo un mese ho comprato anche il drone. E di conseguenza ho preso questo drone, guarda come si fa, cosa non si fa, dove, cosa si può fare, inizia a volare, inizia a volare. E da lì abbiamo iniziato a fare qualcosa assieme. Ho fatto un po' di voli, un po' di allenamento, un po' tanto allenamento, fino a che, pubblicando i nostri video e così sui social, ci contattano per fare dei video a due piscine nella zona dell'Abrianza. Facciamo questi video, tutti gasati, tutti galvanizzati. Il video va bene. Tramite il mio lavoro un mio cliente mi commissiona un video, facciamo anche lui. Quindi la cosa, scusami se ti interrompo, cioè è partita così, dal nulla. Così, dal niente, dal niente. E poi dopo una pubblicazione… Dopo una pubblicazione di questi… prima del video con la bici, con il downhill e tutto. Da lì qualcuno ha visto, è piaciuto e ci hanno tramite conoscenza dal mio amico di Milano, queste due piscine, una di Limbiate e una di Cermianate, abbiamo fatto il video promozionale, ed è andata bene, perché dopo la pubblicazione del video hanno avuto un incremento degli ingressi del 30%. Quindi proprio un'operazione pubblicitaria più che riuscita. Quindi sull'onda, tutti belli galvanizzati, il mio cliente mi dice dai fammi il video dell'azienda, un mio cliente qua, che fanno trattamento di rifiuti e così, bel video, usciamo, facciamo tutto, benissimo. Va bene anche quello, si pubblica anche quello, bello, bello. E arriviamo all'ultimo lavoro che siamo riusciti a fare in maniera bella. Un mio amico, che tra l'altro mi sembra che lavorava ai tempi anche per LR, mi commissiona, mi dà una borraccia dell'Adidas e ci fa, dai fatemi un video di questa borraccia. C'è questa borraccia che era composta da una borraccia, all'interno gli mettevi delle capsule, schiacciavi, ti dava una miscela in base a quella che ti serviva, se era per la forza, per la concentrazione, così, come per la bevanda legata allo sport. Facciamo questo video, questa borraccia che ci ha impiegato un due o tre mesi, perché scegliendo varie location, facendo un po' di prove, facendo io anche lì l'attore e il mio socio mi riprendeva. Facciamo questo video, bello, buono, consegniamo, diamo il video al responsabile dell'Adidas se gli era piaciuto. tempo due settimane è arrivato il Covid, quindi da dove eravamo tutti carichi a mille siamo ritrovati a non far più niente. Certo. Perché avevamo già tramite questo nostro amico altri lavori che riguardavano sempre l'ambito sportivo e purtroppo col Covid si è fermato tutto. Rispetto a persone che lo facevano per lavoro, come l'abbiamo sempre definita noi, la nostra è una passione spinta. Spinta perché impegno notevole di risorse, soprattutto monetarie, però ci legava molto. facevamo le serate in collegamento con l'export del moto, lui che editava i video e io che dicevo ok, inserisci quella clip, fai così. Ah ok. Proprio era un'organizzazione. O sennò altre volte lui veniva su e editavamo il video a quattro mani, quindi con tutti giga e giga di filmati da buttar giù. Ma tra l'altro questa cosa era stata, cioè immagino che magari non utilizzavate solo i droni, ma magari anche qualche camera. Utilizzavamo droni, i nostri due droni, utilizzavamo GoPro. Ok. E avevamo anche una, aveva lui una Canon. E anche una macchina. Una macchina, sì esatto. Da lì poi avevamo acquistato anche una Sony che abbiamo utilizzato per fare il visa dell'Adidas. Dopo con il discorso del covid si è fermato un po' tutto. Esatto. E quindi ci siamo, abbiamo rallentato e ci siamo messi un attimino in stand-by. Ok, ma tra l'altro quindi avete creato praticamente una mini casa di produzione di fatto. Esatto, abbiamo creato quella che attualmente è ancora operativa, la keyframe. Ok. Abbiamo creato questa keyframe dove abbiamo fatto la pagina, abbiamo fatto tutto, però purtroppo sei un attimino arenata lì. Certo. Ma tra l'altro invece c'è stato un momento in cui hai fatto un passaggio, quindi sei passato dai droni quelli commerciali. Esatto. Allora per chi non lo sapesse bisogna fare un passo indietro giustamente. I droni commerciali sono quelli che banalmente, diciamo così, tra virgolette, si possono acquistare su Amazon senza troppi. A Media World, su Amazon, ovunque. I più famosi, diciamo, e quelli che secondo me, ma penso di poter parlare anche a tuo nome, vanno meglio, sono quelli della DJI. Esatto. Tanto non ci paga nessuno, possiamo dirlo serenamente. Esatto. E poi invece c'è stato un passaggio a un altro tipo di droni che sono un po' meno, diciamo, commerciali. Un po' meno commerciali. Perché sono anche più difficili da usare. Esatto. Un po' meno commerciali e un po' meno, come li definivo io, piattoni. Ok. Nel senso che io vedevo quando pilotavo il drone che mi mancava qualcosa, no? E allora ho detto, vediamo un po'. E andiamo a vedere questo mondo dell'FPV. Ti parlo FPV, FPV e come pensai, come qualcuno saprà che ci ascolta, i droni FPV sono quei droni che guidi con gli occhiali. Con il visore. Con il visore, esatto. Dove tu voli come se fossi seduto tu droni. Quindi come essere in serie A. Ed è una figata pazzesca. Ed è una figata pazzesca. Come se fossi andato fino al giorno prima col triciclo e il giorno dopo ti danno la moto, il cross da pesta. Sì, è proprio un altro lavoro, un altro campionato. Un altro, un altro campionato, un altro mondo. Allora lì ho iniziato a informarmi, a guardare tutorial su YouTube, a guardare… come costruire un drone. E quando hai iniziato? Allora ho iniziato nel maggio 2021 il Covid. Ok, 20. 20? Maggio 2020. Quindi prima data 20. Tra l'altro all'inizio sembra poco perché sono passati tre anni. Però in realtà in questo mondo c'è stato un salto allucinante su tanti fronti. Esatto. E banalmente prima era impossibile comprarli già fatti o comunque ce ne erano davvero pochi. Esatto, esatto. C'erano pochi e costavano anche un sacco. Un sacco. Infatti sono partito subito con un kit medio-alto. Nel senso che ho detto se prendo un kit base dopo devo fare il passo che devo prendere il kit. Certo. Già avanzato. Noi ho preso un kit che mi permetteva di portare una GoPro. Mi permetteva di pilotare il drone in un certo modo sia come volo sia come distanze. Nel frattempo ho acquistato il kit, diciamo tra virgolette pronto al volo, ho acquistato anche i droni a pezzi. Quindi ho acquistato il telaio, i motori, l'elettronica, le antenne, tutto quello che serviva per costruire un drone. La scuola di elettronica mi è servita perché per saldare, saldature, collegamenti, capire di non invertire il più col meno, il rosso col nero, dettagli che magari qualcuno dice banali ma non per tutti. E allora piano piano ho iniziato a costruire il mio drone e ci ho preso un sacco perché alla fine lo costruivo la sera. Andavo al lavoro, arrivo a casa, mettevo a letto i bambini, gli leggevo la storia, fino alle dieci e mezza iniziava un'altra giornata per me che mi portava a volte anche fino alle due o tre di notte a collegare il drone, a pensare di come collegarlo. Una volta collegato tutto, a programmarlo, a installare il GPS perché comunque avevo scelto un drone, no, base, avevo scelto un drone che potevo mandare anche lontano. E da lì piano piano ho iniziato a farlo volare, a farlo volare e mi ha dato molte soddisfazioni. Alla fine quel drone che ho autocostruito l'ho mandato in vetta alla Presolana, l'ho mandato sulle cascate del Serio, sull'apertura cascata del Serio, l'ho mandato a tre chilometri di distanza. Che dici? Quindi già, così è bella soddisfazione. Volevo fare un passo indietro su questa storia perché a un certo punto c'è un momento in cui inizia a pubblicare magari qualche cosa e immagino che anche qualcuno le abbia viste. Le abbiamo viste nel senso che se andate, poi vi lasciamo chiaramente tutti i link sotto la puntata di tutti i contatti di Capriere, ma potete vedere che pubblica diversi video, per esempio del video della Presolana, piuttosto che delle cascate del Serio. E quindi sono luoghi che magari devono sposare per forza un'altra passione, che è quella della montagna, nel senso che una montagna o comunque il fatto di andare a scoprire qualche luogo. Adesso tu hai pubblicato questo tipo di video, magari domani invece hai altri assi della manica. Prediligo la montagna, perché comunque venendo dalla montagna io, essendo montanaro, mi ha trasferito ormai città per lavoro e per amore con tutta la famiglia e venendo dalla montagna sei sempre la montagna nel cuore. Quindi anche adesso quando siamo in giro, sabato o la domenica, con la famiglia andiamo a camminare e tranne domenica che c'era brutto tempo, oltre ai panini, al QA, alle racchette, drone, batterie, GoPro e tutto il mio kit per fare dei bei voli. E infatti ultimamente sto avendo belle soddisfazioni. Tante volte magari non pubblico video che dici, ma questo è bello, ma perché mi piace guardare i miei video. E quindi mi perdo lì e infatti ultimamente abbiamo fatto le vacanze estive, siamo andati in Alto Adige e credo di aver fatto in Alto Adige il mio miglior video diving. Il video diving è un video dove tu mandi il drone in cima alla montagna e poi scendi a cannone, nei canaloni, in mezzo alle piante, e che è un video che uscirà prossimamente e è stato molto molto bello. Non più col drone che avevo costruito, bensì perché poi nel frattempo naturalmente cerchi qualcosa sempre di più. Certo, chiaro. Sempre di più. Anche perché diventa una questione di prestazione a un certo punto. Esattamente. Nel senso che è chiaro che se devi andare lontano, ma al di là del lontano, devi avere immagino anche una certa stabilità di segnale. Esatto. E a un certo punto c'è bisogno di fare delle modifiche obbligate. Esattamente, esattamente. Queste modifiche le fai con trasmissione video e in questo momento siamo passati dall'analogico, dove avevo iniziato io, dove poi comunque sempre per questione di costi uno ai tempi iniziava passando dall'analogico. Adesso invece ormai l'analogico è un po' superato e si è sul digitale. Sul digitale perché comunque viene garantito. Garantito. Fino a un certo punto. E aiuta. Aiuta. A la trasmissione a fare anche chilometri. E poi, oltre a distanza che si può raggiungere, la qualità di quello che tu vedi è completamente cambiata. Magari in un video che ho fatto la prima volta in Cimola Presolana, pur avendo problemi alle antenne, tutto sgranato, adesso vedi in Cimola Presolana, negli occhiali, un video come se fossi al cinema, in HD. E quindi cambia, cambia il volo, cambia le traiettorie che puoi prendere. Se prima stavi lontano, adesso col digitale vedi meglio gli ostacoli, meglio le piante, meglio qualcosa che prima non avresti visto. E quindi migliori sempre la qualità del tuo volo e ti diverti anche di più. Perché comunque se vedi bene dove stai andando, dici basta, ora passo dentro lì, vado da quella parte e ti diverti molto di più. In quel caso qua, tu quando fai in giri questo tipo di video, immagino che studi prima banalmente con un volo di passaggio oppure conosci la zona perché sei andato diverse volte e c'è uno studio dietro un volo. Allora, tante volte sì, ultimamente andando a camminare, facendo sempre camminate nuove, lo studio del posto è un po' difficile. Però come arrivo nella location, la prima cosa che guardo è dove mettermi con la famigliola all'ombra. C'è una bella giornata. Anche perché sennò è un problema di caldo. Esatto. E poi inizio a guardarmi in giro, inizio a studiare, inizio a capire dove posso andare, dove posso arrivare. Se posso rischiare che faccio un volo e il drone mi finisce dietro una montagna e quindi perdo segnale video. Certo. Con la possibilità di perdere il drone. Che è un problema. Finché lo perdi a un chilometro di distanza, mezzo al bosco, può andare bene. Se lo perdi su una montagna come l'ha preso l'ana, dici va bene, pace all'anima del drone e lo lasci là. Parentesi, due settimane fa l'ho perso sulla diga del gleno. Ma sei riuscito a riportarlo a casa. Non si può dire però, sì, l'ho recuperato. L'ho recuperato però non si può dire. E quindi vai a studiare dove volare, cosa puoi fare e poi una volta che ti metti in volo, inizi a studiare, che il drone è pronto, è controllato, è fatto i check pre-volo, inizi a fare una lipo. La batteria, noi nel nostro ambiente, la lipo e la batteria, se no, la Leon, che è la batteria sempre un po' meno performante ma di più lunga durata, fa una lipo di perlustrazione così vedi cosa ha intorno, come è la risposta del segnale. Perché comunque la prima cosa che tu devi capire è se non hai disturbi sul segnale video e sul segnale del telecomando. Queste sono abbastanza cose da nerd, molto tecniche, però per fare un volo, per riuscire a ottenere il meglio dall'ambiente che ti circonda, fai un giro di perlustrazione e poi dici, ok, adesso lo mando su in cilio. Importante è il check, sempre molto importante il check, perché ad esempio nelle ultime due location, una in una valle sperduta a Livigno e l'altra non mi ricordo più dove, mandi sul drone e dici, ah che bel volo, arriva il drone e la GoPro spegne. E quindi dici, mannaggia a me, è un bel problemone, quindi comunque devi essere sempre concentrato. Tante volte magari rinuncio a far volare il drone o rinuncio perché vedo che c'è troppa gente, sono troppi disturbi esterni che possono influire poi sull'effettivo volo, sull'effettivo divertimento che può essere e col rischio, perché c'è troppa gente, sono comunque droni che... Se perdono il controllo e vanno addosso a qualcuno, fanno del male. Non sono inoffensivi, hanno un peso perché per andare a certe distanze e in certi posti, se hai un drone leggero rischi che in cima alla montagna c'è il vento, se lo porta il vento e ti hai perso il drone. E quindi tante volte sono arrivato in una location, ho detto bella, mia moglie mi fa... non lo fai volare, non mi va, c'è in giro troppa gente e quindi anche io tante volte... Penso, ragiono e dico... non ne va la pena. Verrò qua un giorno dove non ci sarà nessuno, mi alzerò la mattina, mi alzerò la mattina alle 5, farò due ore di camminata nella neve, verrò qua un altro... così come ho fatto negli ultimi inverni e così via. Perché come si sa, gli orari migliori per riprendere sono o la mattina o la sera tardi. E quindi non ci si scappa. Essendo in giro con la famiglia, sei in giro a camminare, ti adatti, prendi la luce che c'è, metti i filtri e devi andare. No, una cosa che dicevi importante è quella di studiare le location, sì, dal punto di vista diciamo paesaggistico, ma anche dalle persone che è intorno o dalle situazioni che c'è, ma immagino magari che non so se c'è troppo vento, giornata fantastica, cielo limpido ma c'è troppo vento e c'è il rischio, al di là ripeto, di perdere il drone che è una perdita economica e del tempo che si è speso a costruirlo. Poi il fatto diventa, se è una questione di sicurezza allora cambiamo partite. La prima cosa quella, vedo video su YouTube, su Instagram dove volano in posti dove non si può, dove mi limito a guardo sì, però a me gira le scatole perché appunto puoi volare in mille posti, non andare dove ci sono divieti, su questa cosa sono molto ligio. Poi come tutti i piloti di droni non si è mai perfettamente, soprattutto quelli dell'FPV, perfettamente a posto, esatto, troppo ligi a quello che occorrerebbe fare, però si cerca, nel mio limite io riesco, cerco, dico, ok qua non si può volare perché, ah è bello, c'è l'adamello, sì, è una zona interdetta al volo, ma il drone, se ce l'ho non lo faccio volare, se no, se vedo prima non lo porto. Certo, quindi c'è anche tutta questa parte qua legata alla vola dove puoi, tanto i posti ci sono. Siamo fortunati che nella nostra provincia, nelle nostre zone si può volare in tanti posti rispetto magari a qualcuno che abita a Roma, che invece non può o abita a Milano, quindi deve spostarsi per forza, noi qua abbiamo i posti, farlo volare dove può volare. E invece un'altra cosa che volevo chiederti perché è sempre legato a tutto questo mondo, in realtà hai aperto, adesso poi ti chiederò quanto tempo fa perché non l'avevi detto, non mi ricordo più, un sito che è in realtà, che anch'io tra l'altro, nel quale io ho usufruito senza sapere, tra l'altro che fosse tu, l'ho scoperto dopo. Nel quale appunto dai un ton di indicazioni, un ton di istruzioni, diciamo, perché si vuole avvicinare a questo mondo, c'è un po' di guide. E tra l'altro secondo me è molto bello perché è scritto molto chiaro, di facile comprensione e dà molti consigli appunto su questo mondo a 360 gradi, cioè sia dal punto di vista, banalmente dove acquistare il tuo primo drone o quale è quello migliore, ma anche da un punto di vista diciamo normativo e snocciola un po' quella che è oggi la norma che c'è. E che non è poco perché in realtà, mi ricordo quando ho iniziato io, ancora prima, la norma era super fumosa e quindi era un problema. Oggi fortuna è un po' più chiara, ma è sempre difficile andare a leggersi. Sempre in aggiornamento, tante volte esce ok, dal primo di gennaio 2024 si può, c'è la marcatura, sono tante cavilli, tante leggi, tante cose che qualcuno non sa. Tanto il sito si chiama? Il sito si chiama dronefacile.it Abbiamo scelto questo nome, abbiamo nocciolato un po' di nomi e poi deve essere qualcosa di semplice, quindi dronefacile è per tutti. Certo. Fa già capire dal titolo che uno approda sul sito, legge, vuole delle informazioni, le trova. Questo sito è stato aperto, andiamo circa un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, sempre io e il mio socio Ivan della Keyframe, un suo amico che lavora nell'internet, come si diceva una volta. Che molto lavora su internet a livello finanziario e così, ho detto, allora c'è il campo dei droni che c'è un mondo, se tu vai in internet c'è un mondo, però non è tutto ben chiaro. Allora ho detto, facciamo noi un sito dove andiamo a ricercare tramite le keyword tutte le domande che fanno la gente, al di là di quelle come vola un drone, fare quelle un po' più ricercate e diamo una risposta. Allora il lavoro si svolgeva, lui ci dava delle parole chiave, da quelle parole chiave lì noi andavamo a cercare tutte le informazioni, tutte le cose legate a quella parola, tutti i dati che si potevano raccogliere, si faceva un lavoro di scrematura, si controllava con normative manuali e quant'altro e se il nostro ragazzo poi andava a scrivere l'articolo Alla fine è un blog, esattamente, e da lì adesso un attimino in stand by per periodo estivo, dove l'abbiamo un attimino per vari motivi è un attimino in stand by, ma che riparterà sicuramente a breve con altri articoli, altre possibilità di dare a ragazzi che vogliono approdare a questo mondo qualche informazione in più per riuscire a volare, a divertirsi nel rispetto anche poi dalle regole. Come hai detto tu, c'è una sezione o comunque una parte dove si dà molto peso alle regole, alle eventuali multe, anche in questo caso un articolo si parlava di multe dove un ragazzo fa pilotare il drone senza assicurazione, che è obbligatorio in Italia, dove i tempi le multe erano intorno ai 30 e passa mila euro. Adesso questa legge è cambiata e il discorso delle multe si è un po' più ridimensionato, fortunatamente, però ci sono tutte queste regole, questi aspetti che purtroppo in Italia tanti ragazzi, tante persone non sanno, perché cosa fanno? Fanno la media world per dire un posto, comprano il drone, prendono il drone, lo settano e vanno ovunque, lo fanno volare, però non sanno che ci sono delle regole. Questo drone per poter far volare il drone è obbligatorio in Italia l'assicurazione e l'iscrizione sul sito dell'INAC come operatori. Basta, se il drone è sotto i 250 grammi, se è sopra i 250 grammi devi fare il tuo patentino e tutto quello che consegue. Tanta gente questa cosa non la sa, quindi prende il drone, va a una festa, alza il drone sopra le persone, che è vietatissimo, perché manca proprio un discorso di istruzione, di informazione, bravo scusami il termine, di informazione su questa cosa qua. Quello che dovrebbe essere la media world che ti dice, ok, compri il drone, guarda che devi fare, io te l'ho detto, poi non lo fai, ti fermano, prendi la tua multa, basta. Non lamentarti che ho preso la multa perché i carabinieri ti hanno fermato, che ti hanno sequestrato il drone. Chi ti vende il drone ti dice, guarda, per volare con questo drone ti serve l'assicurazione, ti serve la registrazione, se superi i 250 grammi ti serve tutto quello che gli va dietro, il patentino e tutto quello che gli va dietro. Quindi sarebbe bello che ci fosse questa informazione, ma che non c'è. Adesso, come tanti posti, vendiamo, vendiamo, vendiamo e basta. Se no, per fortuna nel vostro caso, sembrerà magari uno dice, sì, è una piccola cosa, ma in realtà il fatto di avere un sito in più dove ci sia un'informazione che sono tra l'altro chiare, è in realtà molto utile perché così facendo il processo di informazione se non lo fa il negozio di turno, ok, allora possiamo farlo noi, nel senso informandoci su internet. Qualche lì, fatti magari articoli che quando sono stati pubblicati c'erano delle regole e adesso pian piano vanno sistemati Sì, perché appunto, come dicevo prima, il discorso delle multe è cambiato, alcune regole sono cambiate, adesso col primo di gennaio 2024 cambieranno ancora delle regole riferite alla marchiatura del drone, alcuni droni potranno volare in un certo modo, altri no, per farli volare servirà per forza al patentino, quindi è sempre un mondo in evoluzione, è sempre un mondo a cui bisogna prestare attenzione anche dal punto di vista normativo. Chiaro, io Gabriele ti ringrazio tantissimo in realtà di essere venuto alle nostre telecamere, ai nostri studio. Grazie a te, grazie a voi per questa possibilità. E niente, vi lasciamo ovviamente tutti i riferimenti di Gabriele sotto in descrizione, potete vedere questa puntata, vi ricordo, sia su YouTube, quindi vedete la versione video, invece potete ascoltarla su Spotify piuttosto che su Apple Podcast e tutti i vari canali di streaming per podcast. E noi ci vediamo invece nella prossima puntata di Umano. Grazie mille, è stato un super piacere. Grazie, grazie. Grazie a tutti.